Ben tornati nella sala giochi di 80 voglia di Arcade Ace come al solito qui a tenervi compagnia stiamo sistemando un po' di cose come vedete c'è una nuova grafica tutto intorno abbiamo un microfono nuovo con una cuffia ragazzi uno spettacolo della natura infatti oggi la testiamo vediamo come va l'audio di questo di questo microfono l'ho già sentito è perfetto meglio di quello professionale che ho qui incredibile a parte poi ve la racconto la cuffia e se non vi siete ancora iscritti al canale youtube iscrivetevi fatelo subito c'è c'è tutto ci sono i tutorial ci sono le guide ci sono le recensioni dei giochi a noi ci fa piacere più siamo e meglio è se volete contattarci scrivete nei commenti fate delle domande tutto quello che volete tanto alla fine noi rispondiamo veramente a tutti veramente non ce n'è uno che ne saltiamo di messaggio se poi vi fa anche piacere cliccate sulla campanella lo stavo scordando così siete sarete sempre avvisati delle nuove uscite direttamente da youtube poi abbiamo anche i nostri social instagram twitter e tik tok dove ci trovate esattamente con lo stesso nome 80 voglia di arcade 80 scritto a numero c'è il sito internet per chi vuole anche vedere il nostro cabinato www.strananet.it oppure www.ottantavogliadiarcade.it ci trovate le foto la descrizione i prezzi tutte le specifiche quindi domande richieste avete voglia di vedere il lavoro che facciamo lo trovate sul sito internet di che cosa parliamo oggi parliamo di un argomento molto molto carino ovvero il net play eh sì si può giocare online in net play con i vecchi giochi del passato chi ha retro arc chi ha batocera come vedete qui nel nel mio cabinato sa già che può giocare in net play ovvero lui da casa sua e altri da casa loro funziona il net play allo stato attuale quindi ottobre 2023 sì abbastanza bene ci sono delle limitazioni ovviamente sì oggi andiamo a spiegare un pochettino come impostare il net play e vediamo come si gioca allora innanzitutto non tutti i core supportano il net play che cosa vuol dire vuol dire che alcuni emulatori vi faranno giocare altri emulatori non vi faranno giocare il mame supporta il net play no però lo supporta final barn fb nio quindi se volete giocare ai giochi da sala giochi bubble bubble ghost and goblins insomma tutti quelli classici potete farlo online ma utilizzando final barn nio fb nio con il mame non ci riuscirete quali altri core supportano il net play l'emulatore super nintendo l'emulatore nintendo l'emulatore mega drive non sono tantissimi però vi garantisco che potete giocare tranquillamente senza problemi con gli amici a patto che rispettiate alcune regole quali sono queste regole la versione del core deve essere esattamente la stessa e la versione della rom deve essere esattamente la stessa ok quindi che cosa vuol dire versione del core che andiamo a vedere allora io sono su batocera se vedete in basso c'è scritto net play per me è il tasto nord quindi io spingo nord in questo momento posso giocare con due persone uno sta giocando con f0 super nintendo e l'altro a aero fighters 2 su final barn nio qui già vedo la versione del core vedete l'ultima riga snes 9x 1.10.3 quella la versione del core mentre per final barn nio in questo caso è la 1.9.4 cosa vedo che qui già ho la rom uguale me dice lui rom uguale sotto mi dice rom diversa io posso provare ad entrare in questa partita ma probabilmente non ci riuscirò perché abbiamo una versione della rom che non è la stessa mentre se provo ad entrare qui tranquillamente riuscirò cos'altro mi serve di questa schermatina qua questa persona se guardate tutto a destra la seconda riga l'ultimo l'ultima icona quella forma di monitor mi dice che sta giocando su piattaforma win 32 x 64 mentre quest'altro su unix arm v7 quindi probabilmente questo sotto è un raspberry o similare mentre questo sopra è un computer normale un windows 32 architettura 64 bit perché è importante questo perché di prove non fatte tantissime tante 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 anche con tanti di voi windows riesce tranquillamente a giocare con altri windows anche su piattaforme diverse io su batocera e altri su retro arc l'importante è che il processore e l'architettura siano win 32 x 64 se è la stessa giocherete senza problemi anche se uno a retro arc e uno a batocera adesso ve lo ve lo dimostro perché ho messo su una cosa per farvelo vedere se invece voi siete da raspberry o da anbernic perché anche l'anbernic ha il netplay non riuscirete a giocare con chi gioca sotto windows non potete diventare matti non ce la farete probabilmente perché le istruzioni date al processore sono diverse e quindi vi collegherete però appena vi collegherete vi dirà netplay disconnesso questo perché il processore e l'architettura sono entrambi diverse quindi fra unix e win 32 non riuscirete a giocare neanche sotto arm non riuscirete a giocare il processore va con lo stesso processore almeno questo è quello che abbiamo capito da tutti i test che abbiamo fatto ok allora come si fa ad attivare il netplay molto facile se siete su batocera ve lo faccio vedere subito allora andate in innanzitutto dovete essere connessi a internet questo mi pare il minimo e non mi fate quelli che è ma io l'ho attivato si ma non c'avete il wifi o comunque se non è connesso a internet è inutile prima cosa facciamo le cose fatte bene andate in opzioni rete ok siamo connessi ho il mio indirizzo ip locale nome host batocera e la mia wifi quindi io sono connesso perfetto andate in impostazioni gioco alla fine io sono andato al contrario invece di andare tutto sotto sono andato sopra opzioni netplay entrate qui vedete io ce l'ho abilitato così è disabilitato così è abilitato dovete abilitare il netplay il nickname io sto giocando dal mio cabinato di ghostbusters quindi mi sono chiamato 80 voglia di arcade ghostbusters 80 vda ghost la porta non la toccate quella standard 55435 io poi ho scelto di non farmi mostrare nella lista le persone con cui non posso giocare quindi se questo però voi lo mettete abilitato vedrete una lista immensa di persone anche quelle con cui non potrete giocare secondo me è inutile quindi io l'ho già filtrata nella lista che vedo anche se magari certe volte uno o due come avete visto prima vedrò solamente quelli con cui posso giocare indicizza nuovi giochi all'avvio indicizza giochi questo lo farà da solo la prima volta che abilitate il netplay quindi non c'è bisogno di rifarlo però se dopo un mese aggiungete mille rom rifategli l'indicizzazione dei giochi così lui sa con quali può giocare in netplay vado indietro e in questo momento io posso giocare in netplay posso sicuramente unirmi a una partita ma non posso starla perché per fare da host di una partita in netplay devo andare ad aprire quella porta che ho visto prima la 55435 e la devo aprire sul modem io non ve lo faccio vedere come si fa per un semplice motivo è un'impostazione che dovete saper fare non è una cosa a vabbè mi guardo un tutorial e lo faccio fidatevi anche se vi vabbè ma che ci vuole la apri con un attimo io non ve lo insegno perché se non lo sapete fare se non sapete quello che andate a toccare è meglio che lasciate stare potete giocare con altri voi non potete fare da host però potete giocare con gli altri capito voi vi potete collegare a chi volete non potete far collegare le persone a voi se prima sul modem non aprite la porta 55435 sia in udp che in tcp se lo sapete dovete fare fatelo ovviamente dovete fare il routing della porta sull'indirizzo ip del interno del vostro computer del vostro cabinato del lambernic io per esempio ho messo per chi lo sa parlo a chi lo sa ho messo una regola sul mio modem che il cabinato ha un indirizzo ip prioritario che è sempre lo stesso che è quello che vi ho fatto vedere qui quando sono andato a vedere sarà connesso io so che il mio cabinato quando si accende avrà sempre 192 168 178 83 quindi sono andato sul mio modem e ho impostato la connessione e l'istradamento della porta 55435 sulla tcp e sulla udp di 192 168 178 83 così posso anche fare da host visto che posso fare da host come faccio per far giocare gli altri con me ve lo mostro subito se faccio io da host devo prendere e selezionare un core che supporti il netplay perché se io adesso andassi qui vado sul mame questi qui purtroppo non supportano il netplay perché il mame che non supporta il netplay invece vado su final barn che lo supporta quindi mi vado a scegliere un gioco e farò bubble bubble la versione 0.1 tengo premuto il tasto quello di azione su batocera se io lo avessi solo premuto sarebbe partito bubble bubble se lo tengo premuto ho delle opzioni in più vi ricordate nelle guide che abbiamo fatto queste cose le abbiamo viste la seconda voce è inizia una partita netplay e io questo faccio inizio una partita netplay lui mi chiede vuoi che annuncio pubblicamente la partita sì vuoi mettere una password per chi vuole entrare a giocare volendo sì vuoi una password per chi entra come spettatore perché sì potete anche entrare come spettatori a vedere quelli che giocano come se voi entraste in sala giochi e vi metteste a guardare quello che gioca come facevamo una volta bellissima sta cosa io in questo caso non metto né password giocatore né password spettatore però sappiate che potete gestire le connessioni al vostro alla vostra partita in maniera separata cioè se volete far giocare qualcuno gli date una password se volete farlo entrare a guardare gliene date un'altra questa cosa è molto interessante in questo caso io vado qui perché voglio solo ospitare una partita netplay quindi faccio così e lui parte guardate in basso a sinistra qui sotto qui qui sotto guarda guarda vedi sei entrato come giocatore 1 in attesa del client mappatura porta netplay sul mio indirizzo ip esterno riuscita ok in questo caso che succede io aspetto mi sposto sull'altro computer e vi faccio vedere guarda allora togliamo facciamo quelli seri guarda togliamo tutti gli overlay e metto quest'altro e sono sull'altro computer ok su quest'altro computer io vado in netplay faccio aggiorna elenco host per il netplay e guardate qua io qui sono su retro arc lo vedete di laero su batocera ma di qua sono su retro arc ok io entro qua dentro adesso si sta caricando sono entrato come giocatore 2 avete visto io in questo momento sono sul computer vi faccio vedere se riusciamo facciamo una bella cosa guarda 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 che facciamo li mettiamo tutti e due vicini guarda allora uno lo mettiamo qua guarda guarda che carini che facciamo eh guarda 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 uno lo mettiamo uno lo mettiamo qua e quest'altro lo mettiamo qua allora quello che ha le bande lo vedete è batocera mentre quest'altro è quello in alto a destra è il retro arc ok quindi io come faccio adesso ve lo anzi guarda mi rimetto anche io guarda guarda che così divento carino facciamo le cose quelle serie le facciamo io adesso sono sul mio server quindi è batocera e spingo un coin ed è apparso a tutti e due vado sull'altro aspettate che non mi vedrete ma vado sull'altro computer non mi ricordo quale tasto ho impostato ah perché ovviamente ci devo andare aspetta eh ho impostato il credito e so sull'altro computer e tutti e due vedono che c'è un credito in più se io faccio start sull'uno quindi sul server io in questo momento sono sul mio cabinato con batocera come vedete entrambi io sto giocando non ho messo start sull'altro ma io sto giocando sul mio server e l'altra persona sta guardando quello che faccio io in tempo reale vedete tutti e due proiettano esattamente la stessa immagine senza lag senza niente vedete io sto giocando e tutti e due i computer uno collegato da una parte uno magari a 7000 km di distanza sta vedendo esattamente la stessa cosa se io adesso spingessi start anche sull'altro computer giocheremmo in due uno da casa e uno dall'altra questa cosa è una figata pazzesca soprattutto con i giochi vecchi e questo è un gioco dove si può giocare in due immaginate che figata i giochi in quattro sunset riders teenage mutant ninja turtles poi siccome qui io ho due postazioni perché sono sul cabinato quindi ho due postazioni io posso magari giocare con un amico qui a casa aprire una partita in netplay e il terzo viene da internet vi faccio vedere la dimostrazione guarda usciamo da qua devo andare a chiudere l'altro computer aspettate perfetto e da qui io mi voglio prendere invece che bubble bubble mi vado a prendere ad esempio proprio i turtles vediamo un po' teenage mutant ninja turtles world for players eccolo qua tengo premuto inizia una partita in netplay ospita una partita in netplay vi ricordo che ecco vedete qui io sono da server ho iniziato la mia partita in netplay kawabanga kawabanga premo un player e vado sul primo sempre sul cabinato ha deciso che il secondo ah perché sono in netplay quindi il secondo giocatore qui non me lo fa entrare perché è il final barn che non me lo fa entrare mentre se vado di qua e vado su netplay aggiorno elenco host per il netplay 80 voglia di arcade adesso sentite un doppio audio no lo sento solo io e anche di qua io sono entrato ho spinto play e sono entrato come michelangelo e come donatello ok se siamo se fossimo in 4 e ci fossero altre 2 persone potrebbero entrare direttamente come giocatore 3 e giocatore 4 in ordine di entrata perché in questo gioco tu potevi mettere il gettone in una gettoniera e prendevi solo quello lì c'erano 4 gettoniere e quindi a seconda di dove mettevi il gettone giocavi con quella con quella tartaruga tutto chiaro? aspettate che esco perché non ha senso ormai ve l'ho fatto vedere ovviamente se iniziate una partita in 2 e qualcuno se ne va come in questo caso io sono entrato poi sono uscito se adesso inizio la partita il giocatore 2 rimarrà fermo lì bloccato quindi dovete per forza resettare perché vabbè in questo caso non gli ho neanche fatto premere start però ad esempio lui non potrà il giocatore 2 non potrà mai entrare perché se entra il terzo se adesso entra un altro lo fa entrare come giocatore 3 quindi io avrò sempre quel press start lì che non va avanti se invece quello fosse entrato rimaneva fermo bloccato così io andavo avanti ma non potevo andare avanti perché quello si è scollegato in quel caso l'unica cosa che dovete fare è reset perché purtroppo non ci potete fare niente quello si è scollegato e il problema è il vostro questo è quanto il netplay è molto facile da usare come ospiti perché io adesso ve lo ripeto se vado qua io adesso posso entrare da questo ragazzo e giocare ad F0 con lui non devo aprire porte sul modem non devo fare niente io prendo e gioco ovviamente non posso scegliere il gioco a meno che non conosca il ragazzo in quel caso lo chiamo e dico senti mi metti sto gioco e giochiamo insieme se invece non lo conosco io mi devo accontentare dei giochi che trovo in lista quindi delle persone che in questo momento stanno giocando in netplay potrebbero verificarsi dei problemi di ROM noi abbiamo fatto un miliardo di test diciamo che sono andati anche tutti bene anche se lui vi dice ROM diversa come in questo caso provate ad entrare a volte funziona dipende dalla ROM certo se avete la 1.10 voi e quello ha la 1.46 ci stanno 36 versioni di differenza la vedo dura ma la 1.10.3 e la 1.10.1 io c'entrerei potrebbe funzionare tranquillamente la regola è stesso identico core stessa identica ROM su quello andate tranquilli e stesso processore mi raccomando mi raccomando perché se il processore è diverso ma ci avete tutto uguale comunque non riuscirete a giocare è inutile non ci provate nemmeno l'abbiamo provate tutte non ci si riesce su processore uguale con stessa versione del core e anche ROM non uguale siamo riusciti e come avete visto siamo riusciti tra Batocera e RetroArc che sono due cose diverse eppure il netplay è lo stesso e quindi funziona tutto chiaro? se avete delle domande scrivetele nei commenti cerchiamo di rispondere veramente a tutti la sera se volete noi quando facciamo le live se avete un Batocera funzionante noi facciamo da server e giochiamo tutti insieme anche quei giochi che si gioca in quattro quindi cercateci la sera sia su Twitch che su TikTok giochiamo insieme preparatevi allora se ancora non vi siete iscritti sul nostro canale YouTube vi consiglio di farlo quindi iscrivetevi dopodiché mandate il video ai vostri amici commentate e cliccate sulla campanella così sarete sempre avvisati delle nuove uscite direttamente da YouTube passate poi a trovarci sui nostri social Instagram Twitter e TikTok dove ci trovate sempre con lo stesso nome 80Voglia di Arcade 80 scritto a numero infine il nostro sito internet www.strananet.it e www.80Voglia di Arcade.it dove trovate tutte le info sul nostro cabinato tutte le specifiche le foto i prezzi tutto quanto quindi vi aspettiamo anche sul sito detto questo noi ci vediamo settimana prossima vi aspettiamo lunedì come sempre con un altro gioco ciao a tutti 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 ciao a tutti